Michele, Michele, mi senti? Ti faccio Michele. Grazie, ciao Mare Chiaro, ciao. Grande, ciao, ciao, ciao. Ciao Michele, come stai? Ciao. Ciao. Dimmi. Abbiamo fatto la nostra decisione, mio padre ha detto che posso avverti come amico di te. Ah ok, tuo padre ha deciso, mi sembra una decisione giusta, mi sembra giusto. Quanti anni hai Michele? Ci ha deciso. Quattro. Quattro, ma sei forte a giocare? Sì. Grande. E' un po' stai migliore. Dimmi. Cioè era laddissimo e dopo l'ho fatto il fight, aveva il pompa quello epico. E' diventato forte. Sì, ha spaccato uno. Grande. Devo fargli dire una cosa, Michele. Michele? Ok. Codice. Csiuderone. Vai. Dillo. Dillo. Mi senti Michele, mi senti? Sì. Sì. Allora, codice csiuderone. Csiuderone. Grande. Andiamo. No, no, qua, no, 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 dove andiamo? Ci si è buttato. Andiamo. Andiamo, 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 andiamo qua. Ok, Michele, andiamo qua. Dove va ci? Eh, se no, pericoloso Michele. Ok. Michele. Qual è la tua arma preferita? Il fucile. Il mio tipo, il mio tipo Barretto Scarry. A me, a me è il boom. Il boom. Lo scar. A me è lo scar. Lo scar. Lo scar. A me invece c'è tre cose. Tre cose. La, sì, pompa. Ok. Ok. Il barretto. Il barretto. Il barretto. Ok. Ok. Eccoti. Ma, tiriamo su Gianluca, tiriamo su. Bravo. Michele. Almeno ho un'arma. Gli vuoi bene a tuo fratello? Sì. Bravo. 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 Almeno io ho un'arma. Almeno lei ha un'arma. Ma devo smettere di fare cadere Michele. Non l'ho fatta apporta. Tieni Michele, tieni questa. Prendi la mitraglietta. Ah, no, era di Michele. Era di Michele. Ah, è un po'. Diciamo, cioè, in tre non si capisce niente. Ma neanche in due si capisce niente. Andiamo. Ok. Michele. Chi c'è? Chi c'è? Ti piace Fortnite? Ah, sì. Sì. Potevano fare più bello, però. Eh, infatti, infatti. Eh, infatti, eh, lo so, lo so. Lo so che passerà. Lo so che possono migliorare. Lo so, farà se non è. Ma va bene così. Andiamo avanti. Vamos. Ok. Ce l'avete le armi? No, io ho solo una. Solo una? Dobbiamo prenderle. Un pompa. Un pompa. Solo un pompa. Neanche lui ce l'ha. Adesso troviamo. C'è un nemico, ma ce l'ho fatta. Ok, allora, con la mia pistoletta. Ah, comunque a mio fratello gli piace la pistoletta viola o leggendario. Allora se la troviamo gliela diamo. Ok. La partita che abbiamo fatto io e te. Avevamo trovato la pistoletta. La pistoletta, ho capito. Allora, andiamo avanti. Ah, il mio amico è una cassa normale. Perché la pistoletta c'è. La pistoletta. Perché abbiamo... Aspetta. Aspetta. Ci siamo? No, io ho ancora un'arma. Mi trovo a R. Un taglietto. Adesso vediamo un po' se riusciamo. Sicuro l'ho trovato. Allora, mettetevi a posto con i barili. Che così prendete lo scudo. Ecco. È completa la pistola. Hai preso pistola? Sì. Sì. Pistoletta. Pistoletta hai preso. Bene. Salute. Salute. Attenzione, abbiamo nemici qua davanti. Attenzione. Morto? Ok. Michele! Michele? Ti piace di più la pistola viola o quella d'oro? Quella d'oro. Quella d'oro. bella quella d'oro. Se la trovo te la porto. Allora. Guarda. Ho detto... Guarda. Ho detto se trovo la pistola te la porto. Adesso, adesso la troviamo. Ok. Mi sa che ho una battuta bella. Hai una battuta bella? Sider Babysitter. Sider Babysitter. Sider Babysitter. Fa abbastanza ridere. È vero. Allora, qualcuno si... Dimmi. Qualcuno si ricorda dove si potenziano le armi qua? Credo io no. Credo io no. No, perfetto. Ci sono tantissime banane adesso in giro. Andiamo. Tutte banane. Tutte banane. Andiamo. Tutte banane. Tutte banane. Le bananete bananocce. Le bananete bananocce. Allora, devo cercare perché voglio dare la pistola a Michele. Voglio darvi. Appena trovo come si potenzia l'arma. Cosa? La cassa, io ho visto la cassa. Hai visto la cassa? Ok, prendila tutta, mi raccomando. Ecco qua. Ecco fatto. Molto bene, molto bene. Ma comunque un aereo finalmente l'ho provata. Ok, molto bene. Ah sì, adesso mi ricordo dove si va. Ok. Adesso gli facciamo la pistola a Michele, eh. Che così vince tutto. Ok, andiamo su. Deve essere dentro qua? Ah sì. Non mi ricordo dove è cosa per poter... Sì, sì, sì. Qua, qua, qua. Ok. Mi dai la pietra? Ma... Hai l'auco. Dammi un po' di pietra. No, non quello. No, non quello, solo la pietra. Ok. Mi sa che ho sentito il rumore dell'auco. Sì, può essere. Lo costruisce. Andiamo in safe. Come hai fatto? Mi ho fatto a trovare queste robe. Michele! Michele? Ti do una cosa! Vieni! Ah, sì. Sono qua fuori! Vieni. Aspetta, facci. Vieni, Michi. Michele, qua sono. Vieni, no, vieni. Qua, Michele, guardami. Sì, buonanotte. Tieni! No, no, vieni! Ma quante pistole ci sono? E allora andiamo. Prendi, prendi la pistola. Prendi la pistola. Prendi la pistola. Dobbiamo andare in safe. Andiamo, corri, 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 corri. Andiamo. Non togli la pistola. Hai preso la pistola. Oh, my God! Cosa? Dai, Michi. Ho trovato un lanciarazzi epico in una cassa normale. Molto bene. Dai, dammi lanciarazzi, Michi. L'ho trovato io, dai. Dai, però questo ruba ogni volta. Dammela, se no... Michele con lanciarazzi spacca tutto. Andiamo. Io, lanciarazzi, faccio io. Spacchi tutto con lanciarazzi. Io ce l'ho. E' uno lanciarazzi. E' uno lanciarazzi, io ce l'ho. Sì. Un lanciarazzi. Un lanciarazzi. Hai un colpo. Adesso te li diamo. Alla verità ce l'ho io, i colpi. Glieli do in safe. Glieli dia, che così almeno spara con lanciarazzi, Michele. Eh, però di solito Michele lo fa... Si fa auto-uccide con il lanciarazzi. Anche io di solito faccio così, però vabbè. Eh, succede? Vai, Michele, ci sono i colpi. Ti prego, non spararcelo addosso, eh. Mi raccomando. Qua, 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 altri, altri. E' un'altra. Lasciamo la... Lasciamo la barca, lasciamo la barca. Andiamo a piedi, andiamo a piedi. Troppo pericolosa la barca. Ok. Ok. Io non credo ancora che mi abbia fatto una vittoria con il spavio. Grande. Andiamo. Oh, il 36, dai. Vai, vai, vai. 36, forse la vinciamo di nuovo, va. Ok, eh. Oh, Michele, Michele, non spar... Non mi sparare i lanciarazzi addosso, Michele. Siamo rovinati se me li fai addosso. Va bene, dai, succede. Succede, succede. Io l'ho sparato da lanciarazzi. Lasciamoli perdere, andiamo via, andiamo via. Ti è bloccato un po'? Si è bloccato tutto. Andiamo via. Non è pericoloso. Oh. Ok. No. Cos'è successo? No. Si è bloccato qui. Ma me si è bloccato. Ma come si è bloccato? Sblocca. No, si è bloccato. No, si è bloccato. Mi... Si è bloccato. Cosa? Ho bloccato? Ho bloccato? Mamma, Anna? Sì? Ma adesso è sbloccato. No, basta. Ah. Ok. Andiamo. Andiamo. Prendilo, prendilo. Andiamo qui. Andiamo qui. Dove andiamo? Io, io, io andrei qui. Andiamo. Sono pericoloso. Io sono ancora morto. Io sono ancora morto. Io sono ancora morto. Non sei ancora morto. Ma non devi morire, infatti. Devi rimanere vivo. Ok, andiamo. Vai. Oh, i punti, i punti esperienza. Prendi punti esperienza. Prendi punti. Prendi punti, prendi punti. Aspetta. Ok. Ma si può fare anche arena? Diciamo che dopo gioco anche con altri ragazzi, gioco. Ah. Eh sì, è giusto così, è giusto, è giusto giocare anche con tutti, giusto? Sì. Eh. Dai, credo. Bene. Con me. 45! 45! Come 45? No, hai vinto. Sto sempre a casa. Hai fatto 6 o 45? Andiamo. Sono un po' tante, dai, un po' tante. Sono un po' tante, dai, un po' tante. Sono un po' tante, dai, un po' tante. Parola che è qui? Sì. Michele, tiragli i razzi. A petto. Non a me però, eh. A petto. Dov'è? Sta. Eh, è troppo lontano, non ne ho visto. Ce n'è un altro? Oh. Ok, ma dove li stai tirando i razzi, Michele? Devi tirarli qui. Ma basta, razzi, Michele, sono morti tutti. Basta, razzi, basta, basta. Andiamo. Io ce lo tiro, ma... Le hai tirati tutti? Perfetto. No. Prendi me, prendi me. Io ho altri colpi, lanciarazzi. Wow. No, no, no. Papi! Che è successo? Sto vedo lento. È nella safe, quando... Quando è nella safe. Tranquillo, Michele. Quando... Quando vuole... Pidoletta, pidoletta. 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 Chi è morto? Io. Stai lì, eh? Stai lì, stai lì, vado io in safe a prenderlo. Stai lì. Vado in culo, perché ogni volta quando... Quando muore o nella safe, piange. No, caspita. Vorrei evitare che piangi. Se non avessi la fa danni, non si diventa la badai per te. Andiamo. E poi se andavi luttare, trovate un po' leggendario. Non me lo so. No. 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 L'ho fatto. Lanciamelo. Ah, Michele. Prova a salvarti, Michele. Prova a salvarti. Mi prendi una scheda. Mi prendi la pistoletta. Ti prendo la pistoletta. Ce l'ho la pistoletta. Ce l'ho, ce l'ho. Ah. Guarda che ti stiamo già salvando. Un attimo, passate, ci siamo già salvando. C'è qua la pistoletta, eh, Michele. Ah. Sì, Suder. Sì. Sì. Per curarti, c'è... Sì, Suder. Ci ho perso tutta la vita per curarti, Suder. Ok, Michele. Sì, c'è la tua. Andiamo. Sì, c'è la tua. Sei vivo, eh, mi raccomando. Ce le hai le armi? Sì. Benissimo. E allora andiamo. Suder, ma cosa ti fii? Io? Gli Iron Maiden. Vieni di qua. E tu chi ti fii? E io a Napoli. E io a Napoli. Napoli. E io a Napoli. Napoli. Ok. Napoli. 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 Michele. C'è? Mi canti? C'è uno in aria. Ok. C'è uno in aria. Mi canti una canzone del Napoli? Sì. Vai. Non l'è stata. Fagli, fagli cantare. Non l'è stata. Non l'è stata. Dai, una. Non l'è stata. Una che ti viene in mente. Faccio. Colo. Non lo taglio. E tu. Mighi, guarda. L'ho fatto cadere. L'ho fatto cadere. Sì. Sì. Vai. Vai. Sì. 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 Ancora sei morto. Adesso arriviamo. Porca miseria Michela. Adesso arrivo. C'è il nemico. C'è il nemico. C'è il nemico. C'è il nemico. Ah. Lo devo salvare. Lo devo salvare. Coprimi, eh. Coprimi. Sì. Salvalo, 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 tiralo su, tiralo su. Ok. Sì. Vai Michele. Tieni questo, questo. Io ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Io ce l'ho, ce l'ho. Conosci il cartone Doraemon. Mamma, conosci il Doraemon. Ecco. Mi diamo un altro. C'è quel gatto che ha quella roba, tipo. Ok, perfetto. Siamo ancora vivi. Tiro l'app. Tantana, Gianluca ha fatto un peto. Gianluca ha fatto un peto? Chi ha un shieldone? Non può sparare a caso così. Andiamo. Buono shieldone, tieni. Dove sto andando? Ah. Andiamo, andiamo, andiamo. Ho trovato una giampa a caso. Sì. Ho trovato una giampa a caso. Ok, c'è un medikit qua per Marco. Fatevi il medikit. Sì. Ve lo porto io, ve lo porto io, ve lo porto io. Io ce l'ho già uno, ha la messa tre. Ti sparano tutti a te, ti sparano. Tieni Marco, fatti questo. Vai. Stanno scappando in fondo. Stanno scappando in fondo. Andiamo a vincerla. Vai insieme, vai insieme. Stanno scappando in fondo. Stanno scappando in fondo. Oh, via. Ah, via. Andiamo tagliati. Oh. Ah, via. no 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 guardi aiuto guardi guardi quanta di vita no ce ne sono altri sono andati a trovare un altro nel cespuglio c'è un ero si dimmi curami eh non ce la faccio sono morto quasi l'ho fatto non di vita e anche io ma anche tu sei morto io anche la te io anche la te dai dai ma non di vita mamma mia preziosissima tanto che c'è la 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 secondi secondi grazie ma ci mancherebbe ciao 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 ciao